Non lo so, non lo so che ho visto, io ho visto, venivo da qua, ho visto una luce in terra che si è mossa, ma penso sì, lì qua, per quel punto lì, lì qua la lampadina che c'è? Nessuno, perché ero l'unico, ero avanti e trevo la lampadina, per questo strumento, per prendere l'unico, c'è nessuno dentro, forse ne vediste, l'ho visto anche fuori, no qui dentro, ma per ora no.